Riesce a non farsi interrompere da Sabatini e Trevisani al primo intervento per capire Ivan se secondo te, conoscendo e avendo seguito come sappiamo più o meno da vicino, anche se sei più a Roma che qui a Milano e Torino e dintorni, la situazione della Juventus, il sollievo della qualificazione che arriva pur nel modo imprevisto, cioè con la vittoria dell'Atalanta di questa sera e non con la vittoria della Juventus sulla Salernitana, dà un po' di respiro all'ambiente e all'allenatore o si arriva a questo finale di stagione con enorme tensione, comunque? Beh no, intanto il Champions non c'è, poi magari per meriti più dell'Atalanta oggi che della Juventus stessa, è chiaro che se tu devi pensare a quello che hai visto oggi non c'è partita, mercoledì, però poi finale secca, diciamo le solite banalità, può vincere la Juventus, può vincere l'Atalanta, però io se devo dire vedo una squadra costruita da Dio che è l'Atalanta con delle soluzioni alternative straordinarie, con una parte fisica, parte tecnica perfetta, quest'anno hanno anche speso rispetto al passato perché hanno speso veramente decine di milioni e Gasperini riesce veramente a far crescere giocatori come De Cattelare soprattutto e come altri naturalmente, quindi è in una condizione sfavillante, non a caso è in finale dell'Europa League. La Juventus oggi ha tirato in porta, ci ha provato, non segna, fatica a segnare e quando si trova squadre anche minori come appunto la Salernitana va in difficoltà perché sbagliano le scelte, molti giocatori, perché Vlaovic sbaglia un gol, dopo non si riprende più e devo dire che con i cambi abbiamo visto una Juve un pochino diversa, però una Juve che non è incomprensibile perché 46 punti nel giro di andata, 21 in 17 partite. Qual è il punto di equilibrio? Ecco, il punto di equilibrio è che è una squadra non scadente, però non di grande livello. Vorrei andare naturalmente oltre le cose che ci siamo detti e su cui ci siamo confrontati nel corso di tutta la stagione e che partono però da questo presupposto di quello che ha detto Ivan, di quello che si è visto oggi. C'è una situazione di poca coesione anche ormai, secondo te Sandro, tra ambiente, staff tecnico e giocatori? O lo diciamo solo, ancora una volta, post risultato? No, no, io l'ho detto anche prima, che comunque è la storia del calcio, che comunque quando c'è un allenatore che traballa, una panchina che traballa, come succede alla Juventus, succede anche al Milan, poi lo spogliatoio anche, non dico che prende le distanze, ma comunque ci mette qualcosina di meno, ecco, nei confronti dell'allenatore. È normale, è sempre successo e sempre risuccederà. Cioè vale la famosa frase che tu hai detto una volta, nessuno gioca contro l'allenatore, non tutti giocano per l'allenatore. Con l'allenatore, certo per l'allenatore. Quello secondo me è una regola che non cambierà mai. Nel caso della partita di oggi, Ivan ha usato una parola, un termine incomprensibile, perché comunque a tutto c'è un limite, ma non dico sul gioco, il gesto tecnico, eccetera, ma io parlo semplicemente della cosa proprio da ragazzini, la grinta, mettiamocela tutta. C'era una squadra che aveva un obiettivo, la Juventus è una squadra che giocava senza obiettivi, eppure chi aveva più grinta, poi parliamo di giocatori, di gioco, di tutto, chi aveva più grinta per un tempo e mezzo è stata la Salernitana. E quindi credo che sia anche una cosa di testa, cioè qui non sto cercando né giustificazioni, né alibi, né nulla, però questa è una squadra che alla minima difficoltà finisce. E la difficoltà oggi chi era allo stadio lo sa, cioè c'era allo stadio che sembrava giocare in chiesa, si sentiva più il rumore della pioggia, capito? Quindi tutte situazioni spiazzanti che sono un tentativo di trovare delle spiegazioni, non delle giustificazioni, che giustificazioni poi stringi, stringi, non ci sono. Saluto, tu hai parlato di grinta, Massimiliano Allegri invece ha parlato di frenesia, con uno sguardo poi anche alla finale di mercoledì, sentiamolo. Riccardo Trevisani, quella di Allegri a fine giro non è d'andata. Del quarto posto dell'obiettivo minimo. Non lo so se è una profezia, di sicuro la Juventus del giro è andata, ha fatto qualche partita come oggi, bruttarella, e poi a un certo punto l'ha vinta, anche oggi ha segnato il 92esimo. Secondo me non è che la squadra abbia mollato, perché altrimenti non pareggi al 92esimo, ti affliggi sui fischi e smetti di giocare. Invece comunque ha colpito tre pali e ha trovato il gol nel finale, è che prima questo tipo di partite finivano 1-0, 2-1. Quindi la Juve le vinceva e siccome qui, non qui a Pressing, qui in Italia è tutto il risultato, il risultato era buono e andava tutto bene. Oggi il risultato arriva meno buono e quindi non va più tutto bene. Ma non è la prima Juve salernitana che vediamo di questo campionato, state altre partite come questa e non sono state, diciamo, criticate troppo perché la Juve vinceva. Dopodiché uno va detto, guarda che giocando così, poi non le vinci tutte le partite. Quell'uno, vedi, no, su una cosa, se vinci poi tutto va bene e lo dicevi proprio te, perché io nel mio piccolo, visto che tu dici alzi il dito, sono io, allora anch'io ti dicevo guardate che non è una questione di prestazioni, la prestazione è figlia anche del valore, guarda ci metto anche dell'allenatore, del valore della squadra e dell'allenatore e il valore della squadra e dell'allenatore della Juventus è un valore che non è paragonabile a quello dell'Inter per esempio. E qui abbiamo fatto delle serate in cui Allegri diceva che questa squadra arriva al quarto posto, esagerava, esagerava perché poi tutti magari, sai, diventano tutti... Però adesso è così, e gli veniva fatto il processo perché no, c'era Biasin che dice no, deve dire qual è il suo vero obiettivo, ha capito, se l'ha detto non ti va bene... La sensazione del Max per chiudere è che quando la Juventus stava giocando per un obiettivo che era più di quello che era il suo valore, cioè lo scudetto giocava leggera e quindi tutte le situazioni si incastravano bene, ora che invece deve vincere per forza perché deve andare in Champions League, perché tutti chiedono andare in Champions League si è avvenuto un grande braccetto o un piedetto, se mi passate il termine, a tanti giocatori che mi hanno ricordato un po' Zaire Emery martedì a porta vuota che si è frenato anzi che fare gola. Oggi però l'ha anche girata male. Certo, ma è proprio per questo, prima non ti gira male perché sei tranquillo, ora stai lì pressato e terrorizzato e non riesci a battere neanche la Serenitana che ovviamente ha fatto una buona partita sia con la Juve sia con l'Atalanta, ma è incredibile non riuscire a batterla in questo momento per come sta. Non vorrei approfittare del fatto che a Franco Ordine piace assistere a pressing dal suo monolocale e tra poco arriviamo anche da te, però ho visto che Fabrizio Biesini ha alzato anche la manina, quindi siete naturalmente coinvolti anche voi. Fabrizio? Per rispondere a Sandro, io credo che a un certo punto si debba anche uscire dalla logica della classifica, perché poi comunque sia la Juventus il suo obiettivo l'ha raggiunto, l'anno prossimo giocherà la Champions League, però dobbiamo anche vedere quello che è successo negli ultimi due mesi a questa squadra. Cioè questa sera la Juventus è entrata in campo con un atteggiamento che è inaccettabile, cioè il primo tempo della Juventus è inaccettabile per l'atteggiamento, così come io penso che questi giocatori non siano questa cosa qua, perché io li ho visti giocare a un livello superiore, e se i giocatori nel corso di una stagione peggiorano le loro prestazioni, allora bisogna fare un ragionamento più ampio, cioè allarghiamo il tutto, in questi tre anni cosa abbiamo visto in casa Juventus? Una squadra che è arrivata, ha conquistato la qualificazione alla Champions, si giocherà una finale di Coppa Italia e basta, è poco, è veramente poco. Ha ragione Fabrizio perché è uscita dalla Champions quest'anno dall'Europa League e non è inaccettabile, hai capito? No, no Ivan, in tre anni questa cosa qua con questo girone di ritorno è troppo poco e non vorrei fare i soliti discorsi sui soldi, però stiamo parlando di un tecnico che in tre anni porta a casa più di 20 milioni di euro netti in tre anni nella sua esperienza di vita per giocare una finale di Coppa Italia dopo domani. È troppo poco, è la Juventus, è troppo poco. Il girone di ritorno di quest'anno, un girone di ritorno da un punto di media partita, non è Juventus, non può essere Juventus e questi giocatori valgono più di quello che vediamo. Guarda, queste sono opinioni, queste sono opinioni e sono assolutamente rispettabili, capito? È vero. Tanto quanto le opinioni di Fabrizio, io credo che siano meritevoli, capito, di un ragionamento e anche le opinioni che però fanno presente che non si può giudicare una squadra solo per il nome, non si può giudicare la squadra soltanto per la maglia che indossa, perché il calcio è un pochettino più complesso e non si può pensare che arrivi lo scudetto solo e soltanto per un apporto esclusivo dell'allenatore. L'idea sembra che non sia questa, perché appunto se ci sarà una guida tecnica diversa ci sarà anche una squadra diversa, impostata in maniera diversa, anche per suggerimento del nuovo allenatore. Ma ci arriviamo. Franco Ordine, volevi dire? No, volevo dire questo, che dobbiamo tenere bene a mente, conservate per favore le registrazioni di questa sera e delle serate precedenti. Non c'è pericolo che questo non accada? Benissimo, va bene, visto che tra l'altro c'è la possibilità di conservarle, conservatele. Perché chiedo di conservarle? Perché secondo me noi l'anno 21, a meno che a Torino-Juventus non arrivino improvvisamente di Di Bavà e Pelè avremo finalmente il cambio dell'allenatore e quindi di un allenatore che propone un calcio meno scheletrico, meno sparagnino, più spinto a giocare bene. E però dovremo vedere poi che cosa chiappa da questo punto di vista. se, ripeto, conserva più o meno la struttura attuale con qualche ricambio. Perché io vi faccio l'esempio della Roma. La Roma, passando da Mourinho a De Rossi, ha cambiato completamente faccia dal punto di vista della proposta di gioco. È vero, dobbiamo ammetterlo. Ha fatto strada anche in Europa League. Poi però, a un certo punto, quando la sticella si alza, poi a un certo punto, o per mancanza di salute, perché stasera obiettivamente l'Atalanta è stata gigantesca dal punto di vista fisico, per un'ora li ha tramortiti. E quindi, al di là di questo, dico, poi quando si alza la sticella, non sempre riesce il fatto che il gioco, tra virgolette, riesce ad avere il sopravvento sulla qualità. È vero, è vero. Ci torneremo poi su questo, Franco, anche perché i punti della Roma a questo punto del campionato sono gli stessi dell'anno scorso, ma poi ci saranno naturalmente posizioni da valutare anche su questo risultato e su come ci si è arrivato. Con le sconfitte di Mourinho, sono pure colpa di De Rossi adesso. E torneremo ovviamente anche sulla questione che Passano ha toccato sia... Abbiamo parlato qui nelle ultime settimane che riguardano il pericolo di un rappresentante come allenatore che non appartenga alla storia, al DNA della Juventus, ne ha parlato anche Allegri. Tu vedi questa criticità nell'eventuale probabile arrivo di Tiago Motta, oppure bisogna andare oltre? Ma io non sono neanche sicuro che Tiago Motta lasci il Bologna. Addirittura. Perché io sono convinto che Saputo i giocatori per fare la Champions, tre, quattro giocatori, io li puoi comprare. Xabi Alonso pensavamo tutti che andasse in giro per l'Europa e rimasto alle Vercuse. Tiago Motta sta facendo benissimo, sta crescendo. Saputo ha sempre detto se la squadra la rinforziamo. Ma rischia di più rimanere a Bologna o andare alla Juve, secondo te? Quella è la domanda che si fa secondo me lui. Che campagna mi fanno alla Juventus? Che squadra mi costruiscono? Qui a Bologna posso fare un anno e poi andare via a fine dell'anno prossimo. Diciamo che a Bologna resta immortale. Ho fatto una cosa che rimarrà come Gasperini a Bergamo nella storia per sempre. E se se ne va, non lascia un grandissimo ricordo, non credo che gli possano contestare qualcosa. No, ma se ne va male, comunque l'uomo che ha portato il Bologna in Champions League è una spilla che si terrà per la vita. Alla Juventus avrebbe... E' chiaro che se alla Juventus gli dicono che qui ci sono tanti soldi per fare mercato, per fare la squadra... Però possiamo dire che forse per la situazione che ha la Juventus adesso, un uomo come Conte potrebbe essere più indicato. Se tu pensi al primo scudetto vinto da Conte a Torino, all'attacco per esempio di quella squadra, comunque fu un'impresa. Se poi pensi che Conte con la squadra disse ah, io non vado ai ristoranti da 100 euro e Allegri invece è andato in finale di Coppa dei Campioni, tutti possiamo sbagliare. Però mi pare che Tiago Motta, come ha detto Cristian, io al posto suo starei ancora un anno lì. Ah! E poi esagero ancora, se fossi giunto lì cambierei tantissimi calciatori, il più possibile di calciatori, ma non perché non sono bravi, ma perché è come una stanza che se incattivita l'aria devi aprire per cambiare l'aria alla Juventus, a mio avviso. A un certo punto l'ambiente è saturo e devi cambiare. Adesso Conte in questo panorama secondo me sarebbe più adeguato. Ivan Zazzaroni, poi torniamo al tavolo, hai tu da insider tuoi Bologna ed intorni aggiornamenti su le vicende legate a Tiago Motta, quel momento in cui lui salta a Juventino, si ferma, è un indizio? Se non le ho io, chi può averle? Eh, appunto, io richiedo da te. Basta che li dici a noi, basta che li dici anche a noi e non aspetti solo due giorni. Allora, il problema di base è dei rapporti fra Sartori e Tiago Motta, nel senso che Tiago Motta vorrebbe avere una maggiore centralità negli acquisti, nella scelta dei giocatori, che è mancata secondo lui, soprattutto a gennaio ma anche prima. Quindi è un po' quello che accade a Bergamo tra Sartori, che per me è il migliore che c'è in circolazione, e Gasperini. L'Atalanta diede il potere alla fine a Gasperini e Sartori se ne andò rimase un anno e mezzo fuori. Quindi, se saputo, riuscissi a trovare un punto di equilibrio che in questo momento non riesco a vedere, francamente, perché sono due personalità molto forti, fra Tiago Motta e Sartori, a quel punto quello che dice Panucci potrebbe anche realizzarsi. Il fatto che Motta vada alla Juve non è così scontato. Perché Tiago Motta vuole anche delle certezze, delle garanzie, dei giocatori di un certo tipo, e con questa squadra non vai da nessuna parte. In Champions, in Mondiali per Club, in Campionato, in Coppa Italia, e tutto quello che ne consegue, e Supercoppa. Quindi, poi Tiago Motta ha anche offerte dalla Spagna, ha offerte dall'Inghilterra. Sai, è un po' complicata la situazione in questo momento. Ti ripeto, io sono abbastanza d'accordo che riuscisse a fare un altro anno a Bologna, in condizioni diverse, su un piano degli equilibri interni, sarebbe, secondo me, eccezionale anche per lui. Andare alla Juve, magari sbagliare, rischiare, perché mancano i giocatori, ed ha ragione massimo in questo caso, cioè devi cambiarne tanti, obiettivamente, per essere competitivo il prossimo anno. Però sarebbe anche un grande segno di personalità, eventualmente. Ma sai, la personalità lui ce l'ha, non ha bisogno di dimostrarla. Cioè, il discorso che avete fatto su Conte, in questo momento, mi sembra fuori luogo, perché a me dissero, un dirigente importante, che non l'avrebbero mai ripreso. Ma non perché non vogliono riprendere Conte, perché hanno fatto delle scelte diverse. Però è chiaro che se Tiago Motta decidesse di non andare, Allegri andasse via, chi vai a prendere se non Conte? Quella è la domanda che uno si può porre. Però ti dico, adesso è tutto aperto. È chiaro che dopo la Coppa d'Italia sapremo, finalmente, come andrà a finire la storia con Allegri. Tutti noi pensiamo che si possa chiudere. Ecco, questo mi sembra evidente. Ma nel calcio io ho visto Ronaldo, il fenomeno, andare al Milan, e quindi a quel punto ho visto tutto. Ma no, io la guardo da un'altra prospettiva, tutta questa situazione. E sinceramente mi sembra che sia a livello societario l'Inter abbia vinto lo scudetto, scusa, l'Inter abbia vinto lo scudetto tecnico sul campo, e societario dietro nella stanza dei bottoni, dietro le scrivanie. Perché vedo comunque la seconda e la terza squadra, o la Juve magari arriva anche quarta, però ci siamo capiti, che al 15 di maggio, a metà maggio, hanno una situazione contrattuale con i loro vecchi allenatori, che già sapevano prima, non è una sorpresa, e hanno al tempo stesso due, tre, quattro piste aperte per un nuovo allenatore. E questo credo che sia un po' masochistico, perché tu Massimo hai ricoperto tutti i ruoli nel calcio, tu Cristian hai ricoperto tutti i ruoli nel calcio, un allenatore non significa che lo devi portare a cena o gli devi fare le carezze, ma se è un allenatore, fai intuire, non gli dici chiaramente, quali sono i piani della società che non lo prevedono, significa che tu lo metti in netta difficoltà anche con la squadra. E questo vale per il Milan e per la Juventus, prescinde dai valori tecnici, ma è una regola proprio che Juventus e Milan non hanno osservato. Io non ti voglio contraddire, però ci sono dei fatti che smentiscono quello che dici. Per esempio, Trapattoni ci dice nello spogliatoio a dicembre, che lui andrà all'Inter l'anno prossimo, noi vinciamo lo Scudetto. Sì, è diverso, perché Trapattoni sa che comunque può contare su di voi senza bisogno, capito? Tu dai un alibi pazzesco ai calciatori dicendo queste cose, i calciatori perdono perché ci sono altri calciatori che giocano meglio di loro. Però fai una cosa, Massimo, te la ricordi la formazione quella Juve? Perché io me la ricordo, come era quella formazione? No, vabbè, vabbè, adesso non torniamo. Scusate, è realistico però pensare, dico senza mettere in discussione naturalmente le fonti di Ivan, però è realistico pensare che un club come la Juventus, come un direttore sportivo come Giunti, dal quale sono stati dati comunque pieni poteri nella sua area tecnica manageriale, sia a questo punto al 12-15 maggio, ancora senza avere un'indicazione chiara e senza avere eventualmente contattato un allenatore e avergli dato le garanzie che un allenatore chiede. No, contattato ha sicuramente parlato con Canovi, probabilmente ha sentito una volta al telefono Motta, se tu conosci Tiago Motta, Tiago Motta ti dice ne parliamo a fine anno. Quindi il contattato può averlo sentito, può aver esplorato. E quindi nessuna richiesta di garanzie da parte di Tiago Motta per andare incontro? No, Tiago Motta è una persona molto seria e quanto dice, ne parliamo alla fine dell'anno, non fa nessun tipo di richiesta perché non sa nemmeno dove andrà da questo punto di vista. L'anno è finito oggi. Non c'è accordo, firme, accordi o altre cose del genere. No, però l'anno è finito oggi. Scusate, grazie Riccardo, perché io e con Ivan nessuno, almeno dal mio punto di vista, mette in discussione che la professionalità di un allenatore possa essere estrema al 100% e oltre anche ragionando su un futuro diverso. Ti faccio l'esempio del Napoli. Poi anch'io devo fare un esempio dopo. Il Napoli vorrebbe Gasperini, seconda scelta Pioli, terza scelta italiano e poi c'è Conte che comunque ha dei costi elevatissimi. Tutti e tre sono sotto contratto. Cioè, è complicata la situazione quest'anno da questo punto di vista. L'unico libero, in effetti, è Antonio che viene piazzato a destra e a sinistra ed è anche abbastanza irrispettoso da questo punto di vista. Però volevo ricordare... Perché gli farà piacere, immagino. Non lo so, non lo so. Nel 2012, quando arrivò Antonio alla Juventus, mi pare ci fossero Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Pirlo, Vidal, Licksteiner e qualche altro giocatore. Non li vedo io quest'anno. Cioè, non vedo una struttura di squadra. Però, scusami Ivan, però Barzagli, Bonucci, Chiellini arrivavano da settimi posti e sembravano una difesa impresentabile. Poi arriva Antonio Conte e li fa rendere per quello che va. C'è un piccolo problema. Vedi? Erano dei valori assoluti. Potenzialmente erano dei valori. Probabile, probabile. No, non è probabile, è certo. Guarda che secondo me Bremer è il miglior difensore del campionato. È una tua opinione. È una mia opinione. Per me Chiesa è uno dei migliori portieri in Europa. È una mia opinione. Chiuso. È una mia opinione. Per me Vlaovic è un attaccante. È lo fenomeno. È lo fenomeno. Per me Chiesa, se viene rimetto in ordine, è un attaccante straordinario. Per me Kostic, che non vediamo da un anno e mezzo, è un giocatore che è stato depresso. Per me, e vado avanti, e se vuoi posso andare avanti. Vediamo il tavor. Danilo, per me è un giocatore straordinario. Per me Rabiot è un giocatore che mi ha capito cosa ha detto. Non aggravare la tua posizione. Ascolta, vedi, ci sono però il valore assoluto. Non significa che tu puoi ignorare il fatto che a calcio comunque si gioca con degli avversari. Mi spiego. Bremer è nella nazionale brasiliana. Delle volte lo convocano, delle volte non lo convocano. Nella Juventus è il miglior giocatore. Carlos Augusto è nella nazionale brasiliana, ha fatto più presenze di Bremer. Nell'Inter non è titolare. No, no, ma cosa c'entra? Ma c'entra, ma c'entra? C'entra, c'entra, c'entra calmo. Ma non c'entra niente. No, non mi interrompere Fabrizio, che non mi interrompere. Ma posso dirti perché questa cosa? Buchanan. Perché evidentemente da una parte c'è un allenatore che riesce a far rendere i giocatori, dall'altra no, questo è il problema. Allora, Buchanan è titolare nella nazionale, tanto quanto Kostic, ma Buchanan nell'Inter non gioca mai, perché ce ne sono ancora che sono più bravi. Si, Bremer non è stato convocato dalla Copa America. Poi dopo si può discutere sulla valutazione del CT, però Bremer non è chiamato Verano. Proprio per quello che dici tu. Un'altra cosa, solo una cosa, ci tengo velocissimo. Attenzione a sottovalutare quello che ho detto riguardo alla sicurezza degli allenatori, perché la regola di Trapattoni non è che è la regola generale. Prendete il Liverpool quest'anno, sarà bravo Klopp. Il Liverpool dov'era quando Klopp annuncia che va via? Primo in classifica, perde i primi tre posti in classifica e litiga anche con i giocatori. E Klopp, un numero uno. In alcuni casi reazione, in alcuni casi non funziona. Per dirti, anche Pioli è da mocca in uscita, Pioli out e tutto il resto. Per esempio, il Milan ha fatto una signora partita contro una squadra che ha un obiettivo. L'altro ieri, anzi ieri. Non è arrivato secondo in campionato. È arrivato secondo, ha recuperato mille punti alla Juventus in giro di ritorno. Quindi anche l'uscita non è che porta per forza a negatività. E soprattutto non sono d'accordo sul valore di quello che viene detto della rosa della Juventus. La rosa della Juventus è una buona rosa che naturalmente va integrata con dei giocatori forti. Però è una squadra che ha delle individualità, ha dei valori. Ma nessuno discute i valori. Ma i valori sono confrontati con le altre squadre. Ivali discuto. Ivali discuto. Io li discuto. Capito? Questi vanno confrontati. È una buona squadra, certo. Arriva terzo, quarta, ha un campionato. Io la cosa che non mi spiego è come hanno fatto a giocare, come hanno giocato fino all'Empoli e poi invece quello che abbiamo visto fino adesso. Qualsiasi spiegazione è valida. Io, onestamente, questa è la cosa che ci dovremmo spiegare. Comunque vedo che vi infiamma decisamente il tema allenatori. Beh, c'è il rebus panchina che sta tenendo...